Matera e Latina si sono affrontati al cospetto di 2000 spettatori circa. L'incontro che si presentava alla vigilia complicato per il Matera, data l'attuale situazione del Latina, la ricerca di punti e di consensi per risolvere una delicata situazione societaria, si è risolto con la vittoria effettivamente sofferta del Matera per 1-0. Squadra Biancazzurra ha dovuto infatti faticare per avere ragione di un Latina che annoverava tra le sue fila giocatori sicuramente di categoria superiore, tra i quali ricordiamo il fantasista Luperto, ex Lecce, Genoa e Arezzo, e il portiere Goletti, ex Talento. Comunque, quello visto oggi allo stadio 21 settembre era un gran bel Matera che ha avuto nella tenacia la sua arma migliore. I ragazzi di Pasquino hanno infatti lottato e creduto fino in fondo nella vittoria e dalla fine sono stati giustamente e meritatamente premiati. Tra i Biancazzurri, da menzionare l'ottima prova in particolare di Piero Caputo e Gardini, quest'ultimo autentica spina nel fianco della difesa del Latina. La partita si è svolta senza tatticismi e le squadre si sono pertanto affrontate a viso aperto. Dopo qualche scaramuccia iniziale la partita è entrata nel vivo ed era subito Pugliese al decimo a rendersi pericoroso. L'azione da gol più limpida nel primo tempo viene tuttavia costruita dal Matera al 29esimo quando Pugliese, lanciato in profondità, non riusciva ad approfittare di uno svarione difensivo del Latina alzando sulla traverso un pallone abbastanza facile. Al 45esimo era Caputo a mettere un movimento danza su calcio di punizione ma il cross al centro del terzino materano veniva bloccato da Goletti in uscita che anticipava di un soffio la corrente Tanzi. Nel primo tempo da ricordare per il Latina una punizione di Luperto che ha sfiorato l'incrocio dei pali della porta a difesa da Morciano. Nella ripresa il Latina è sceso in campo, deciso a conservare il pareggio ed ha tentato di addormentare la partita, cosa che non è avvenuta. Già al secondo minuto di gioco Caputo spreca un'occasione colpendo di testa davanti a Goletti comandando il pallone alto sulla traversa. Al dodicesimo da registrare per il Latina un tiro innocuo di Licorcia facile preda del ben piazzato Morciano. Al ventesimo era Bisci a rendersi pericoloso colpendo la traversa a portiere battuto. Era il peludio al gol che giungeva al ventiseesimo dopo un'azione personale di Bisci che evitava l'intervento di due difensori e metteva alle spalle dell'incolpevole Goletti. Per la cronaca al quarantaquattresimo il Matera ha reclamato per un fallo in aria su Gardini ma il signor Ruggero di Nocero Inferiore non ha ritenuto ci fossero gli estremi per concedere la massima punizione. La partita finiva così tra gli applausi del festante pubblico materano che ha potuto godere di un ottimo spettacolo. Quanto a Latina va detto che la squadra di Sibiglia ha mostrato una buona organizzazione di squadra ed è dotata di giocatori che possono, se messi in condizioni di maggiori tranquillità ricordiamo che i giocatori del Latina non percepiscono stipendi da due mesi potrebbero fare la differenza in questo campionato. Per il momento però questi problemi sembrano pesare troppo sulla squadra e pertanto ogni giudizio di carattere tecnico-tattico sui nerazzurri laziali è senz'altro azzardata e priva di fondamento. Il Matera esce invece rafforzato da questa vittoria meritata e viene spontaneo a questo punto a rammaricarsi ancora una volta per quei punti persi che avrebbero potuto fruttare al Matera il primato in classifica. Comunque va detto che qualora il Matera dovesse esprimersi sempre a questi livelli potrebbe togliersi molte soddisfazioni in questo campionato. Catanzaro e Battipagliesi sono dunque avvisate da oggi il Matera potrebbe essere condiritto tra le grandi del calcio della C2.